Il tema per noi importantissimo è quello dei valli chielpini, perché ovviamente l'economia italiana esporta tantissimo per l'Europa, la Germania e la Francia sono i nostri due partner più importanti e i valli chielpini rappresentano le porte di entrata e di uscita verso questi mercati, quindi ogni limitazione al transito delle merci risulta veramente critico. Oggi con la crisi climatica, con l'aumento delle frane, stanno aumentando in modo esponenziale le chiusure anche parziali e anche temporanee, ma questo sta ulteriormente aggravando la situazione e almeno per il contenzioso con l'Austria sul Brennero andrebbe risolto da un'iniziativa dell'Europa che deve poter garantire il libero accesso delle merci nel mercato unico europeo. Grazie per la visione!